segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te per cui credo che il problema è che questo io non so se lei si ricorda negli anni 60 proprio qui vicino roma ci fu un'altra suora suor diletta pagliuca che fu condannata per otto anni lei gestiva una comunità di bambini disabili ragazzi disabili che furono trovati tutti legati in uno stato fisico proprio degradato ci furono anche dei bambini che erano morti e ci fu anche un grande sospetto allora io mi chiedo ma questo fa parte della missione del mondo religioso trattare in questo modo allora che si deve fare e cercare di dare una base scientifica una base scientifica andrea muccioli andrea muccioli